...senta regolare le piccole più cedali arterie estrarobane del Piemonte, non si verificano ancora le oralentamenti. Vi ricordiamo tuttavia che per lavori è chiusa la statale 589 dei lati di Aviviana, nel comune di Dinerolo, fino a cessate esigenze. In chiusura, vi segnaliamo che sulla statale 24 del Muginebro è vettato il trasto e mezzi con massa superiore alle 26 tonnellate, fra Cesana e Clavier, dalle 22 di oggi alle 6 di lunedì 4 gennaio. Per questo appuntamento è tutto. Maggiore informazioni sono a vostra disposizione consultando il sito modassipiamonte.it. Buon viaggio! Al servizio a cura di regione comune, assessorato dei trasporti e 5.000. Rechietti la tua canzone di una nuova passaccia e tra l'altro azionale da 389. a cura di regione con una nuova passaccia e la nuova passaccia e la nuova passaccia e la nuova passaccia. a cura di regione con una nuova passaccia e la nuova passaccia e la nuova passaccia. a denominatore giare la nuova passaccia e la nuova passaccia. It partisizzare alla nuova passacccia. Well, vi provatore. Grazie a tutti.